Buonasera, ben arrivati in Villa Comunale ad Arzano! Il mio paese è ancora così, oh dimmi se Arzano è ancora così, il mio paese è ancora è ancora così, il mio paese 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 è ancora così, il mio pa Vieni ancora adesso, puoi fidarti, io non ti perderò I'm your lady, and you are my man Voglio calore sulla mia felpa Se bruciasse la città, date, 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 io correrei Un brindico alla schiena, ma me non si innamora I love celebrity, for life, for life Si raggiungo e guiabile, in tutto ciò che fa Primo classificato per la categoria E di T Ilaria Sinto Allora, il primo classificato, categoria inediti è Luciano Buonfiglio Premio Torneremo l'anno prossimo, più tosti, più arrabbiati, più forti che mai Grazie, buonasera Buonanotte 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 a tutti, grazie